Noi siamo arrivati qui con l'obiettivo chiarissimo di arrivare ultimi, purtroppo ci hanno messi nella zona gialla per cui il compito è un po' arduo, però c'è chi ha fatto peggio perché ha detto che volevano arrivare ultimi invece sono là in alto che quasi vincono, per cui noi siamo convinti che andare sul palcoscenico suonare al meglio delle proprie possibilità, delle canzoni complicatissime con dei testi articolati e arzigogolati come abbiamo fatto sempre poi, in realtà sia ormai completamente fuori moda, per cui vogliamo chiuderla qui salutando e ringraziando tutti, proprio ora che siamo in grandissima forma perché posso dire tranquillamente che non abbiamo mai suonato così bene come in questi mesi e passare a altro, quindi dopo il 30 giugno ognuno di noi inizierà la sua nuova strada, so che un tweet di Faso si valuta già sui 3-4 mila euro 3-4 mila euro, un mio tweet, ve lo dico subito, se volete per notarlo adesso perché poi quando varrà 7 mila poi dopo non venite a dirmi, ma avevi detto 4 mila, l'ho detto in febbraio e io voglio tentare la carriera una e trina, nel senso rapper, youtuber, influencer adesso mi alleno e tenterò, veramente non inizierò subito perché bisogna imparare un po', no? e poi tutti gli altri hanno delle altre cose da fare, abbiamo Vittorio Cosma insomma, il 30 giugno è il termine ultimo, per cui se qualcuno è così antico che vuole ascoltare un complesso che suona bene, ha tempo solo fino al 30 giugno noi abbiamo scritto questo pezzo che per noi è bellissimo anche se non tutti la pensano come noi, però noi insistiamo, è un bellissimo pezzo e abbiamo chiesto a un grande gruppo che non si sa per quale causa non è più sulla scena da qualche tempo di collaborare per renderlo ancora più bello e loro, incredibile, ce l'hanno fatta per cui tenteremo di darlo vita a una bellezza doppia